buongiorno a tutti allora si sono rispustate le altre tre partite delle valide per la qualificazione alla prossima champions league e naturalmente alla prossima europa league per le squadre che ahimè verranno eliminate proprio sul filo di rana ieri ci sono state le prime tre oggi ci sono state le seconde tre partiamo subito da young boys dinamo zagabria partita molto equilibrato io pensavo che lo young boys potesse fare non dico un boccone della dinamo zagabria ma almeno vincere con vincere ecco vincere pensavo fosse alla sua portata purtroppo mi sbagliavo la dinamo ha fatto la sua onesta partita ha portato a caso un ottimo pareggio il confronto è terminato uno a uno young boys in vantaggio poi pareggio della dinamo perché la squadra svizzera ha voluto tentare un fuorigioco al limite del centrocampo ne hanno lasciato uno in fuorigioco però la palla è andata a quell'altro che in fuorigioco non era questo si è fatto un mezzo campo tre quarti di sì ma poco meno di mezzo campo perché era già nella metà campo dello young boys e si è imbolato bello fresco come una rosa verso la porta e la piazzata nell'angolino sull'uscita del portiere nella ripresa ci sono state un palo della dinamo occasioni per lo young boys ma alla fine il risultato è rimasto invariato ed è un punteggio che si dà un leggero vantaggio alla dinamo zagabria però non gli garantisce sicuramente il passaggio del turno anche se lo 0 a 0 gli basterebbe per appunto passare il turno ma non credo che lo young boys vada a zagabria a giocare per cercare il gollettino all'ultimo mi sa che attaccheranno sin da subito e cercheranno di segnare per costringere poi la dinamo a sua volta a scoprirsi eccetera stessa cosa penso farà la dinamo penso che al ritorno sarà una partita scoppiettante perché l'1 a 1 non garantisce nulla e mettersi a giocare per lo 0 a 0 poi finisce sempre che prendi il gol beffa all'ultimo minuto veniamo all'altra partita che era videotone ai cap atene arbitrata dal nostro rocchi e il nostro rocchi è stato protagonista perché prima è espulso un giocatore del videotone per un fallo a piedi a martello praticamente il giocatore dell'ai cap è entrato in scivolata lui è entrato col piedino così direttamente sulla caviglia in contrasto rosso diretto videotone in 10 l'ai cap ne ha approfittato ha segnato l'1 a 0 il videotone ha provato a rispondere anche se era in inferiorità numerica ha preso il secondo gol poi dopo l'ai cap a sua volta è rimasto in 10 perché è altra espulsione per un fallo molto simile al precedente e anche lì giallo più giallo più giallo se non ho rosso diretto anche lì a base base che tra l'altro ha segnato pure e il videotone in 10 contro 10 è riuscito ad accorciare le distanze con vlaovic anche perché il difensore dell'ai cap è svenuto c'è stato questo lancio lungo lui la stoppata di testa era davanti il difensore solo con lo stop di testa il difensore è caduto come un sacco di patate lui se ne è andato entrato in aria ha battuto tranquillamente il portiere però comunque l'1 a 2 mette praticamente l'ai cap nelle condizioni di non dico di essere già in champions ma quasi perché non credo sarà molto semplice nel calderone dello stadio dell'ai cap ad atene perché lì veramente è caliente riuscire ad andare a vincere 2 a 0 3 a 1 o magari riuscire a vincere 2 a 1 a sua volta e andare ai supplementari e poi ai rigori credo che questa sia una partita ormai abbastanza scontata però tutto può succedere ricordiamoci sempre che il biglioton ha dovuto giocare in 10 contro 11 per quasi un tempo più o meno quindi magari in 11 contro 11 anche se giocano in trasferta tutto può succedere vediamo all'ultima partita che ha ias dinamo kiev vinta dall'aias 3 a 1 e direi stravinta perché se il primo tempo magari il 3 a 1 poteva essere un pochino eccessivo per la dinamo perché comunque sì l'aias ha fatto qualcosina di più ma anche la dinamo si è fatta vedere nella ripresa c'è stato un monologo totale dell'aias che ha preso pali, traverse, occasioni eccetera poteva finire 5 a 1 tranquillamente e sarebbe stata chiusa il 3 a 1 lascia ancora aperto tutto e vedendo quello che ha combinato lo Zenit in Coppa UEFA se non sbaglio nel turno precedente che è riuscita a vincere 8 a 0 attenzione alle squadre in questo caso è ucraina, non è russa però attenzione è ancora tutto da giocare questa partita però comunque l'aias ha vinto 3 a 1 e direi che a regola i risultati a parte forse l'aik che magari l'ho sbagliato gli alian boys dinamo mi sembra che avevo messo 1x aias dinamo kiev mi sembra che avevo messo 1 1x e il videotono aik l'ho cannata in pieno perché non mi sembra di aver messo l'is2 però forse avevo messo l'is2, mi ero rischiato l'is2 e ci ho azzeccato in compenso la mia scommessina dall'over 1,5 stavolta l'ho presa tutta e quindi praticamente non ho perso nulla anzi ho guadagnato qualche centesimo non è che mi fa schifo finché non perdo io sono già felice e contento adesso mi appresterò poi a fare le scommessine i miei soliti 5 orini divisi in 2 5-5 su 3 e 3 partite tanto per il momento abbiamo 70 euro disponibili extra per il divertimento tranquillo e senza rischi perché come sempre giocare in maniera responsabile intanto vi saluto vi ringrazio e mi appresto a fare un altro video sarà questo nero azzurro per alcune delle lucidazioni particolari sul mio video precedente così diamo un po' di specifiche ciao